benvenuti a tutti qui un nuovo video tutto per voi oggi parliamo di dragon ball per l'esattezza dragon ball super oggi parliamo di goku e gogetta le due action figure di dimensioni diverse che si possono trovare in molti negozi o store di giocattoli incominciamo col vedere le scatole arrivo è sposto i personaggi e partiamo con una scatola alla volta ecco qua in questo caso qua abbiamo la scatola di goku come vedete dragon star serie super saian goku il logo di dragon ball super immagini di goku molto bella e dettagliata e dietro troviamo invece tutta la serie di action figure che si possono trovare di questa dimensione in realtà questa è una wave poi ce ne sono altre perché so che c'è anche super saian 3 e anche se mi sembra freezer in questo caso qua troviamo super saian goku vegeta super saian di quarto livello piccolo krillii gohan e super saian gogetta la scatola è fatta bene molto resistente e se effettivamente una bellissima scatola non posso non posso dire nulla è molto bella in tutti i sensi guardiamo invece l'altra quella di gogetta allora molto più semplice logo bandai dragon ball super dragon ball evolve questa è la versione meno costosa che si può trovare nei negozi dietro comunque molto bella allora è questo il primo gogetta che io ho trovato di solito mi è sempre capitato tra le mani goku super saian god vegeta e brolly è la prima volta che vedo questa wave che deve essere invece nuova con trunks goku non saian e gogetta adesso andiamo a vedere invece quella che è la action figure di goku allora eccola qua bisogna essere onesti fatta molto bene il volto non è eccezionale ma non è neanche brutto i capelli non sono lucidi quindi è un giallo che promette bene per quanto riguarda la versione saian la testa si muove a destra e sinistra quasi inesistente il movimento però si muove il collo pochissimo nonostante ci dovrebbe essere questa questa giuntura che dovrebbe permettere il movimento guardiamo se mette a fuoco ecco qua articolazioni il personaggio è nuovo quindi c'è abbastanza rigido come articolazioni all'interno della confezione trovate due mani due pugni io ho preferito metterli fin da subito queste perché sono quelle che gli dà la possibilità di fare l'onda energetica o kamehameha per quanto riguarda le gambe snodato solo le articolazioni il piede non si muove di lato si muove solo su e giù e ginocchio e coscia all'unica articolazione il piede si può girare ma niente di particolare allora cosa dire questa action figure è fatta bene me la terrò perché mi piace goku ma onestamente non mi fa impazzire una cosa che non apprezzo per niente è questo divario enorme che poi vedremo nell'altra action figure di gogetta che invece è fatto secondo me è meglio non mi piace che il busto sia tutto solo di un pezzo con la cintura che dà la possibilità di movimento e non mi piace devo essere sincero questa cosa del collo che dovrebbe avere una giuntura per muoverlo ma di movimento non ce n'è quindi questo è goku come vedete della serie bandai super saian dragon star adesso guardiamo invece gogetta gogetta in realtà è molto meglio molto meglio perché a parte le dimensioni che purtroppo sono piccole molto meglio perché allora il colore dei capelli è lucido non mi fa impazzire ma rende bene l'idea ha solo due mani che sono quelle per fare la cam e a me a però sono snodate danno la possibilità di muovere e girare di piegare allora la testa si muove su e giù si muove a destra e sinistra ha il doppio snodo per quanto riguarda il ventre le braccia hanno la possibilità di posizionare le spalle che è una cosa molto bella il giubbino è mobile quindi è comodo le gambe hanno più giunture perché si alzano si girano si piegano e soprattutto nonostante non abbia la stessa giuntura che ha il goku c'è sì il divario ma è comunque più fine grazie a questo meccanismo che l'hanno fatto meno tozzo il piede si si gira di lato va su va giù si gira completamente cosa dire allora mettiamoli un attimo al confronto onestamente onestamente io preferisco goku solo per una questione d'immagine ma come action figure costa di meno ed è più bella questa per quanto riguarda diciamo la fisionomia per quanto riguarda lo sguardo per quanto riguarda i meccanismi di movimento è fatta molto meglio e costa circa 12 o 13 euro in meno quindi nulla da dire molto meglio la versione piccola la versione grande bella però non rende perché se avessero fatto semplicemente le stesse giunture più fini avessero lasciato più movimento al busto più movimento alle spalle e più movimento al collo avremmo avuto due prodotti similari ma uno grande che vale il costo che ha è uno più piccolo invece no hanno fatto questa scelta che io non capisco oggettivamente ma però va bene lo stesso con questo video io vi saluto vi ringrazio e vi avviso che gogetta a breve sarà messo in vendita con la sua custodia ciao a tutti